Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio garage. Lunedì 6 marzo 2023 sono usciti un sacco di utensili della linea Parkside Performance, la linea col motore brushless. Grazie a mia moglie io sono riuscito a prendere tutto quello che mi serviva e tutto quello che mi hanno commissionato alcuni amici perché sono stato parecchio male. E ora che mi sto riprendendo inizierò a fare i video e i vari test su questi utensili. In questo video vi parlo del seghetto ricaricabile 40 volt comprato a 119 euro. 40 volt perché come vedete funziona con due batterie uguali inserite nel suo supporto. Avviciniamo la telecamera. 119 euro è il prezzo di vendita senza batterie e senza caricabatterie. Questo è il modello PPSSA40LI-A1. È la prima volta che esce e il mio modello è prodotto dalla Grizzly a settembre 2022. Nella confezione abbiamo anche due lame, uno per il legno e uno per il ferro. Come vedete in questo simboletto praticamente c'è i nuovi utensili della linea performance dal 2022, da fine 2022 per il resto del mondo e da marzo 2023, se mi arrivate di tardo, per l'Italia. Hanno la funzione Ready to Connect che è l'utensile. Quando ha la batteria smart, quindi questa funzione funziona solo con utensile performance Ready to Connect più batteria smart, c'è la possibilità di collegarlo all'applicazione del nostro smartphone e andare a impostare alcuni settaggi in base all'utensile stesso. Numero di giravuoto da 0 a 2300, livello 1, e da 0 a 3000 al minuto, livello 2. Lunghezza della corsa 32 mm, la corsa naturalmente è lineare. Come misure massime ci dice massima prestazione da taglio 150 mm nel legno, 15 mm nell'acciaio, 20 mm nei metalli non ferrosi e 100 mm per i tubi in metallo. Come per tutti gli utensili performance, 5 anni di garanzia. E qua ci sta dicendo che in relazione al seghetto a gattuccio non performance, quindi quello verde, perché è il PSSA 20 LIB2, il performance a sigla PSSA P, dove P sta performance, abbiamo 50% di prestazione di taglio in più, 39% come lunghezza della corsa in più e fino a 10 volte maggiore la durata del motore, questo perché è brushless. Questo è quello che troviamo all'interno della confezione, quindi manuale di istruzioni, il nostro seghetto a gattuccio e due lame, nient'altro. Allora, nella confezione possiamo tenere il nostro seghetto a gattuccio con le batterie più grandi che ci sono in questo momento in commercio come Parkside e sono le 8 Ah smart che hanno le stesse dimensioni delle 4 Ah normali. Qui abbiamo l'alloggiamento del caricabatterie singolo, quindi quello da 4.5 Ah, e qua l'alloggiamento di altre due batterie, perché essendo 40 Volt, due le utilizziamo e due le abbiamo di scorta. Ora io ve le faccio vedere diverse, ma per farvi capire che ci stanno sia le 4 Ah smart che le 2 Ah, anche se non è consigliatissimo utilizzarlo con le 2 Ah, ma funziona. Funziona anche se le prestazioni calano sensibilmente, infatti nella confezione c'è scritto che le batterie consigliate sono le 4 Ah smart, però come vedete possiamo mettere o due da 2 Ah o due da 4 Ah smart. Non hanno previsto la possibilità di mettere in valigia due batterie da 4 Ah normali, che sono quelle che magari noi abbiamo maggiormente rispetto alle 4 Ah smart o rispetto alle 8 Ah. non possiamo mettere, quindi la valigia ci obbliga a dover tenere magari installate nel seghetto due da 4 Ah normali e se non abbiamo batterie smart non possiamo portare nient'altro perché non c'entrano. Se abbiamo le 4 Ah smart ne mettiamo due qua, una qua e una qua. Peccato, avrebbero dovuto fare l'alloggiamento anche per altre due batterie da 4 Ah normali. Questa è per me una vera cavolata. Va bene, andiamo avanti. Allora, ecco il nostro grande seghetto a gattuccio da 40 Volt. Praticamente è la fotocopia di questo gonfiato a tre barre, è più grosso, come vedete, da qualsiasi lato lo vediamo. Questa è la parte alta del motore e come vedete eccolo qua. Nel video saranno inevitabili i confronti con questo modello, che però non è l'ultimo modello. Infatti questo è un C3, quello senza il selettore della velocità. Allora, praticamente tutto nero, ma questa parte che vedete qua, questa parte qua sopra, fino a qui, vedete, è delimitata da questa linea. Tutta questa parte qua sotto, delimitata da questo profilo. E a partire da qua, tutto questo dell'impugnatura è tutto gommato. Questo perché il seghetto a gattuccio, in base a quello che facciamo, possiamo imbugnarlo sulla parte frontale, come seconda di imbugnatura. Che qua, rispetto all'altro, naturalmente, è ancora... Cosa è successo? Ha caduto un tappetto. Ha caduto il tappetto di qua. Rispetto all'altro, è naturalmente più grande, più ingombrante. Il tasto di accensione, di colore rosso, con la parte gommata frontale, che non possiamo premere se non premiamo questo tastino di sicurezza. Che possiamo premerlo in entrambe le direzioni. L'impugnatura è neutra, quindi possiamo impugnarlo sia con la destra che con la sinistra. Qui vediamo una leva rossa, che una volta aperta ci consente di irregolare, o di rimuovere, ma non conviene mai lavorare senza, di irregolare la profondità di questa battuta. E il sistema di, per inserire la nostra lama, si ruota di 45 gradi questa ghiera di plastica che ha due alette. Si inserisce la lama con il piolino dalla parte bassa, che in teoria si potrebbe inserire anche al contrario, ma non va bene lavorare in quel modo. Si fa un po' di avanti e indietro per far incastrare, perché alcune volte succede questo, vedete? Poi si vanno a e si incastra, si vanno a e si incastra. E poi inseriamo le batterie, perché in quest'operazione conviene farla senza batterie, e iniziamo a lavorare. Qui sotto vediamo l'alloggiamento delle due batterie. Quindi una e due. Che non si incastrano, devo dire, perfettamente. Sì, si bloccano, però vedete il pulsantino rosso non esce del tutto. Mi succede solo con le batterie smart, perché se metto le batterie normali, probabilmente le batterie più usurate, si incastrano bene. Ecco, questa si è incastrata. Ci sarà questa parte da levigare proprio leggermente, leggermente, per fare lo scatto. Quando ci sono le batterie installate e andiamo a premere il pulsante di accensione, si accenderanno due piccoli pannelli. Il primo, che vi sta dicendo, è la carica delle batterie. In questo momento sono differenti, perché una l'ho appena caricata e l'altra la devo caricare. E si accenderà un altro pannello, dove c'è un tastino per selezionare la velocità e il tastino centrale che si illuminerà quando effettueremo la connessione col nostro smartphone, con la nostra applicazione. Abbiamo anche qui il simbolo della catena, che è il Ready to Connect. Il simbolo della catena è solo da questo lato, dove c'è questo connettore di colore rosso, mentre l'altro è di colore nero, perché è qui che dobbiamo inserire la batteria connessa all'applicazione. Se ne abbiamo due connesse all'applicazione, poco importa, però è quella in questo slot che ci permetterà di comunicare con il seghetto. Ok, mi sta dicendo, PPSSA40LEA1, aggiornamento immediato, aggiorna, avviare l'aggiornamento. Allora, firmware aggiornato, utensile rilevato. Ok, caricamento, ok, mi sta dicendo, ha trovato il seghetto a gattuccio, il codice preciso, corrente di scarico utensile 0A, perché non è attivato, ma è solo attivo. Ok, velocità di rotazione utensile 3000 RPM, livello corrente, livello 1 o livello 2. Ah, sarà la velocità, la selezione della velocità, vediamo se la cambio. Ok, se la cambio non lo vedete voi, ma cambia anche sull'utensile. Modalità funzionamento, prestazioni, esperto. Allora, in modalità prestazione, interruttore spia, luminosità della luce frontale e il ritardo dello spegnimento della luce frontale. E poi qua ci dà le informazioni sull'utensile, tempo di funzionamento totale 1 minuto, tempo di blocco, forse se bloccato è andato in protezione una sola volta, questione del firmware. Se andiamo invece in modalità funzionamento esperto. Ah, questo è un limite della velocità di rotazione, vediamo se l'ho imposto a 10%. Ah, ok, anche premendo completamente il grilletto non va oltre questo limite, è importante ripristinarlo. Perfetto, anzi, mettiamo direttamente modalità prestazione così non sbagliamo. Sentiamo. Ok, va bene, possiamo giocare un po' con l'applicazione, anche se di fondamentale nell'applicazione c'è poco. Ci dà qualche informazione simpatica e ci permette di fare qualche settaggio per adattare l'utensile, soprattutto questa cosa di andare in modalità esperto, per adattare l'utensile al tipo di lavoro. Magari se facciamo sempre un determinato tipo di lavoro, limitiamo i giri a 2.000, se ad esempio dobbiamo tagliare il ferro, così non ci preoccupiamo di come premere il grilletto. Lasciando stare questo problema delle batterie che si sganciano, che cercherò di vedere se posso risolvere in qualche modo, magari prenderò delle batterie più vecchie, anche perché non sono sicuro di tenerlo, quindi non voglio andare a limare qua. Perché non sono sicuro di tenerlo? Perché il seghetto a gattuccio, il seghetto a gattuccio della linea verde, quindi non performance, svolge egregiamente le sue funzioni. E io comprai questo qua, che come vedete è usato poco, per tenerlo di scorta, perché quello ha fatto veramente la guerra, anzi lo prendo e ve lo faccio vedere, eccolo qua, ha fatto veramente la guerra e ho pensato, qualora mi dovesse abbandonare, onore al merito, nel senso perché si è guadagnato la pagnotta più e più e più e più e più volte il suo pezzo, il suo costo, mi ritrovo questo qua di riserva. Il seghetto a gattuccio io l'ho utilizzato prevalentemente, diciamo nel mio fai-da-te, per la potatura di rami prima di scoprire le piccole motoseghe a batteria. Quindi nel mio fai-da-te l'idea di tenere un seghetto che così combinato pesa quasi 4 kg, ora lo vedremo il peso, io già l'ho visto, non mi entusiasma tantissimo. Infatti non lo vedo proprio indirizzato per un utilizzo soprattutto per quanto riguarda le potature e il giardinaggio, perché già questo, così come è fatto, è abbastanza pesante, tutto sbilanciato in avanti, quindi ci stanchiamo. E' vero che una volta che appoggiamo la lama sul ramo possiamo scaricare gran parte del peso, ma se dobbiamo fare una potatura e stare col braccio 3 minuti, 2 minuti, quello che è il taglio in questo modo, una cosa è farlo con 2,5 kg, una cosa è farlo... Già ho difficoltà a parlare tenendolo così e penso che non riuscirei a durare nemmeno 30 secondi, già sento il braccio cedere. Quindi nell'utilizzo del giardinaggio non so quanto senso ha andare a caricarmi del doppio del peso per avere alla fine un incremento di prestazione che sì ci sarà sicuramente, ma questo a me già bastava. Vediamo la differenza di peso. Il modello 20 volt, 1,6 kg, senza batterie. Il modello 40 volt, abbiamo detto 1,6 kg e 2,4 kg. Già di base pesa 800 grammi in più. Naturalmente se ci andiamo a mettere le due batterie, sono 3,7 kg con le batterie da 4 amperora smart. 3,7 kg contro 2,2 kg, sono 1,5 kg in più. Che alla fine è quello che fa la differenza perché quando abbiamo il braccio completamente esteso si sente, si sente. Quindi per questo motivo non farò prove di potatura di alberi, anche se è il periodo che devo fare un po' di lavoretti fuori. Non lo andrò ad utilizzare fuori per potare perché non penso che chi lo compra, lo compra per questo motivo. Anche perché non avrei da potare, non avrei da tagliare alberi così grossi da poter vedere la reale differenza di prestazioni tra i due modelli. E lo utilizzerò qua dentro. Farò una sola prova di taglio e faremo un confronto con il 20 volt normale. Però prima dobbiamo caricare completamente le due batterie, le uniche due batterie 4 amperora smart che ho. Quindi farò la prova con questo, poi la caricherò nuovamente e farò la prova con questo. Andiamo a fare questa prova di taglio. Allora, due lame nuove, una per il 40 volt e una per il 20 volt. Speedwood non è una lama esageratamente aggressiva come può essere questa. Però questa lascia il legno molto rovinato. Se dobbiamo tagliare questo tipo di legno e dobbiamo avere la superficie pulita, io utilizzerei questo. Questa è a bete, ed è una trave che si utilizza per i soppalchi, per i tetti. 10x12, quindi 10x12. Allora, sono riuscito, naturalmente entrò alla massima velocità. Le due batterie non si possono vedere, ma sono riuscito a incastrarle, facendo un po' di gioco, forse il tastino si è mosso un pochino, direttamente a seconda velocità, si è acceso il led di lavoro che non vi avevo detto prima. Farò una leggera pressione, cercherò di fare la stessa pressione quando utilizzerò quello da 20 volt. Cerchiamo di tagliare una fettina sottile, e via! Grazie! 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 Mamma che bestiaccia! Penso che la mano mi resterà addormentata per una settimana. Tutte cose si sono staccate, anzi meno male che ci avevo messo la valigia come peso. Va bene, a questo punto. Ora dobbiamo caricare nuovamente la batteria, e poi facciamo la prova con il 20 volt e farò uno split screen. Allora, effettivamente il taglio non è venuto malissimo. Ma guardandolo da sopra, è venuto storto. Perché all'inizio, quando si doveva agganciare, la lama ha iniziato un po' ad oscillare, e l'ha preso un po' storto. Diciamo, errore mio. Non mi aspettavo tutta questa grande potenza. Allora, lama nuova. Ora, il mio modello non ha la regolazione della velocità 1, 2. Comunque, se non ce l'ha, è perché va alla massima. La batteria si è caricata, ve lo faccio vedere. Ok. Andiamo. 20 volt. Allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vuole un sistema che ammortizza perché le oscillazioni e le vibrazioni che genera il 40 volt sono veramente pesanti da sostenere e se non ammortizza niente ne risente il polso. Va bene, avete visto lo split screen e la differenza si vede e come prova diciamo che secondo me è abbastanza rappresentativa. Andiamo a fare le nostre conclusioni. Allora effettivamente il taglio del 20 volt sembra leggermente più pulito. Il taglio del 20 volt e il taglio del 40 volt. Qua si vede, è molto abrasivo mentre qua è molto liscio quasi dappertutto. Anche se entrambi hanno la velocità massima di oscillazione, il numero di giri a 3000 al minuto. Tutte e due 3000 però effettivamente si vedeva che non andavano alla stessa velocità di oscillazione. Allora ragazzi, il sospetto che avevo all'inizio rimane. Nel senso, io personalmente per i lavori di giardinaggio mi tengo questo. O mi tengo questo. Nel canale c'è un video comparativo tra i due e abbiamo visto che c'è pochissima differenza perché il moto rotatorio si trasforma in un moto oscillatorio e si annullano quasi le differenze di prestazioni tra un motore brushed, quindi a spazzole, e un motore brushless, senza spazzole. La differenza col 40 volt si sente tantissimo, si vede, lo percepisco come vibrazione, si percepisce come potenza, si percepisce come movimento, ma si percepisce anche come peso. Quindi io questo 40 volt lo vedrei meno in un utilizzo giardinaggio potatura e lo vedrei più in un utilizzo da cantiere, da laboratorio. E naturalmente io ho fatto solo la prova sul legno per vedere la differenza di potenza, perché il legno effettivamente frena molto la lama e capiamo la differenza. Se avessi fatto delle prove ad esempio su ferro sarebbero entrati in gioco altri fattori quali ad esempio la velocità di taglio che non dovrebbe essere troppo elevata, altrimenti mi va a bruciare i dentini, mi va a rovinare i dentini della lama. Quindi in quel caso non sarei riuscito a fare un confronto equo tra i due. Questo confronto fa capire la differenza, non c'è secondo me un confronto migliore per capire la differenza tra i due. Poi tutto quello che fa questo, fa sicuramente anche questo, e dove possiamo andare lo farà più velocemente. Dove possiamo andare sempre in relazione al discorso che se ad esempio tagliamo il ferro non è che possiamo andare così veloci, perché se no ci mangiamo la sega, ci mangiamo la lama. Quindi il prodotto è sicuramente valido, ha una forza esagerata, manca tantissimo, si sente tantissimo la mancanza di uno smorzatore, di una molla, smorzatore di vibrazioni qua, perché effettivamente qui le vibrazioni sono parecchie. Più che altro perché ha la forza di contrastare l'attrito della lama. E quando fa questo, dobbiamo vincere noi l'attrito. E se non ci riusciamo a vincerlo, il moto si trasmetterà sulla mano e su questo snodo. Quindi consigliato per tutti gli usi, secondo me, che non è il giardinaggio, dove bisogna fare delle potature, per esempio, su una scala, in questo modo, dove già mi sto stancando. E' vero che poi andrò a appoggiare la lama sull'albero, ma nel momento in cui l'albero si taglia, con lo sbilanciamento, cado dalla scala. Per i lavori di giardinaggio, se l'avete comprato esclusivamente per questo, questo va più che bene. E va più che bene per i lavori di giardinaggio e anche per tutti i lavori che fa questo. Lo fa solo più lentamente. Una ditta edile che fa tantissimi tagli per preparare, per esempio, gli argini dove fare la colata di cemento, quindi tutti i tavoloni a tagliarli. Oppure le travi per sostenere qualche struttura, travi provvisorie dove poi si andrà a fare una gettata di cemento, eccetera, eccetera. Si devono tagliare velocemente questo tipo di travi qua, con queste misure, allora effettivamente, se non volete utilizzare una motosega, allora la differenza nella velocità del lavoro con questo utensile si noterà tantissimo. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché arriveranno altri video. Ciao!